Viviamo in uno stato laico e visto che la bestemmia è offendere il sacro, in uno stato laico, il sacro dovrebbe essere lo Stato. Quindi in un paese laico come l'Italia dovrebbe essere considerata bestemmia, non quella rivolta a Dio, alla l'unicorno rosa o Merlin Menso, no. Dovrebbe essere quella rivolta, non so, dovrebbe essere considerata bestemmia, non so, porco governo. Mannaggia la Corte Costituzionale, l'anima degli meglio mortacci tu e di tutto il Consiglio Superiore della Magistratura. Queste dovrebbero essere considerate bestemmi in Italia.